Musica Avvio a singhiozzo per le prenotazioni dei vaccini anti-covid agli over 80 in Puglia Sul sito web Puglia Salute sezione non attiva ai cup linee intasate nelle farmacie cittadini in coda e prenotazioni a passo di lumaca Ambulanti in protesta questa mattina a Roma e in Puglia le istituzioni sono sorde ai nostri problemi Nel 2020 il settore wedding in Puglia ha subito cali del fatturato pari al 95% ancora oggi è tutto fermo I ricavi pari ad un miliardo di euro sono andati in fumo, le associazioni di categoria chiedono l'intervento della regione Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud Apriamo però una piccola parentesi sulla crisi di governo, di politica Dunque la tanto attesa consultazione sulla piattaforma Rousseau si è conclusa Il Movimento 5 Stelle ha detto sì al sostegno al governo Draghi I votanti sono stati oltre 74 mila, di questi il 59,3% pari a oltre 44 mila voti ha deciso di appoggiare il governo nascente Mentre i contrari sono stati il 40,7% vale a dire 30.360 votanti Gli iscritti alla piattaforma ricordiamo sono circa 119 mila quindi ha votato più della metà degli attivisti iscritti Adesso parliamo di vaccinazioni al via le prenotazioni per gli over 80 per i vaccini anti-covid Ma la partenza come ci aspettavamo è nel caos Assembramenti all'esterno delle farmacie, lentezza inaudita del sistema Tra l'altro la sezione dedicata del portale Puglia Salute non è al momento ancora attiva E l'opposizione attacca l'assessore Lopalco, sentiamo E' qui per prenotare il vaccino? Sì, sì, sia per me che per mia moglie Al via le prenotazioni anche in farmacia per la somministrazione dei vaccini anti-covid agli ultraottantenni Ma la partenza è a singhiozzo Non mi sembra neanche che sia ancora proprio attivo il sistema, cioè non riesce a scaricare e ad aprirsi il sistema Il sistema è lento e gli addetti ai lavori hanno ricevuto le indicazioni su come procedere poche ore prima dell'attivazione del servizio Confrontandosi con un carico di 100 richieste in media per ogni farmacia Centinaia tra chiamate e soprattutto la presenza di moltissime persone qui sul posto Cerchiamo di fare il massimo Tante, tante, almeno un centinaio Qui c'è coda, come vede queste sono tutte persone che sicuramente verranno a fare la prenotazione E quindi iniziamo subito Ci stiamo muovendo bene, soltanto che il sistema va un po' lento Ci auguriamo che sia soltanto un problema di connessioni notevoli in questa prima giornata Dove c'è un'ansia da parte dei cittadini chiaramente di poter accedere alla prenotazione Veste la sanitaria da presentare personalmente o con delega senza prescrizione del medico Tanto basta per richiedere la propria dose anche nelle parafarmacie convenzionate Restano dubbi sulla fluidità del servizio E da Forza Italia e Fratelli d'Italia sferzano contro l'assessore per la sanità Pierluigi Lopalco Criticando gli arresti e i ritardi del sistema Intanto il rischio di assembramento in coda alle farmacie è dietro l'angolo Siamo in attesa di essere chiamati Questa dunque la situazione è nel tardo pomeriggio Ma nelle prime quattro ore dall'attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni Nonostante tutti questi problemi tecnici a sito e cup Sono state effettuate 14.426 prenotazioni da parte dei cittadini over 80 Questo è il comunicato ufficiale della regione Puglia E naturalmente l'assessore dell'Opalco si è giustificato Dicendo che il sistema di prenotazione sta registrando numeri molto alti Ma c'era anche da aspettarseli E quindi le farmacie gestiscono questo flusso di richieste molto elevato Come dimostra il dato regionale Non vorremmo immaginare cosa capiterà quando poi le vaccinazioni dovranno farle gli under 80 Cioè una fascia molto più ampia di popolazione Perché ricordiamo gli over 80, quelli che hanno più di 80 anni di età in Puglia Sono circa 260.000 Veniamo al bollettino regionale su 10.372 test per l'infezione Sono stati registrati oggi in Puglia 1.248 casi positivi La positività è cresciuta È al 12,03% rispetto al 10,1% di ieri I decessi sono sempre alti Perché sono 33 le persone decedute contro le 25 di ieri I casi attualmente positivi superano quota 44.000 Adesso vediamo la Puglia da oggi È zona gialla Dopo gli errori di calcoli che sono stati commessi E quindi abbiamo fatto tre giorni in più di zona arancione Noi abbiamo raccolto le prime impressioni Questa mattina andando in giro per Bari Vediamo Si ritorna comunque al nostro lavoro, alla quotidianità Al contatto con il cliente Che ci è mancato e ci manca ancora È triste ragazzi, è triste Non lo voglio dire ma è triste Il coraggio c'è ma è triste Aderisco ma senza clienti perché c'è il coprifuoco La sera non è che esce qualcuno Cioè se non ci danno il via libera Il coprifuoco magari deve essere limitato alle 23 Allora sì Ma dopo le 21 non circola nessuno innanzitutto Due giorni non ci fanno sicuramente incasso mensile o settimanale Alla fine ci proviamo perché ormai siamo alle condizioni che ci serve Raccogliamo tutto quello che è possibile raccogliere per poter andare avanti Finché si può Perché ormai siamo all'estremo delle forze, all'estremo di tutto È mancato molto anche perché dà un senso di libertà Eppure se siamo sedute li teniamo le mascherine Perché il buon senso dovrebbe essere sempre Speriamo solo che l'inconscienza della gente non prevalga sul buon senso E così facendo ritornare un po' alla normalità E continuare in questa zona gialla per poi diventare verde o bianca Queste dunque le immagini, quello che accadeva questa mattina a Bari Ma parliamo adesso di una protesta Perché oggi si sono dati appuntamento a Roma Gli ambulanti, il settore e la categoria degli ambulanti Sono stati in protesta sia a Roma che in Puglia Le istituzioni dicono sono sorde ai nostri problemi Sentiamo da Roma le dichiarazioni che ha fatto un rappresentante di categoria E poi andiamo invece in Puglia con Paolo Franza Sono venuti da tutta Italia e il loro grido è disperato Fateci tornare a lavorare Sono gli ambulanti una categoria dimenticata in questa pandemia Una manifestazione pacifica sotto Montecitorio e Roma Per salvare il lavoro ambulante Dal 2019 che fiere e sagre sono chiuse Si è arrivati ad un punto dicono dove non si riesce più a sopravvivere I mercati sono andati avanti con mille difficoltà Ma non basta Ho comunque continuato ad operare Gli ambulanti anche per via di provvedimenti vessatori Assunti illegittimamente da alcuni sindaci Sono rimaste ferme Pensiamo alle fiere, alle feste patronali Che non si svolgono da novembre 2019 Cioè noi siamo arrivati a una condizione in cui migliaia di imprese di questo settore Hanno avuto in un anno e mezzo zero entrate ma tutte le scadenze intatte Se questo non significa mandare nelle mani degli usurai le nostre imprese Diteci voi che cos'è Sono mesi e mesi duri per gli ambulanti E non possiamo attendere le decisioni del nuovo governo Non siamo in grado di aspettare ancora Anche dalla Puglia una delegazione di casa ambulanti ha raggiunto Roma Per manifestare malcontento dopo un anno di stenti, di aiuti mancati Ristori i minimi concessi non sufficienti ad andare avanti In provincia di Lecce in segno di solidarietà e vicinanza Che è andato nella capitale insieme al presidente Salentino Francofitto Gli ambulanti hanno deciso di non esporre la propria merce Siamo arrivati a una perdita del 90% perché dall'ultimo decreto del 3 novembre Abbiamo avuto la chiusura dei comuni con la zona arancio E quindi per noi è come per un pescatore andare al mare a pescare senza pesci Quindi noi ci hanno fatto fare il nostro lavoro al 100% Ma essenzialmente era un lavoro al 10% Quindi il nostro calo è stato direi totale La nostra categoria che non è mai stata riconosciuta e protetta da nessuno Seppur siamo stati parte del tessuto sociale, economico del nostro paese Parte attiva Poiché noi con le nostre piccole attività paghiamo le tasse Paghiamo i contributi, versiamo regolarmente IMS, IVA e tutto quant'altro Paghiamo le TOSAP Se siamo abbandonati e bassi Cioè il Stato non ci sta dando una mano Qua siamo arrivati a quasi ai limiti Non lo so Nel 2020 il settore del wedding, quello dei matrimoni in Puglia Ha subito fortissimi cali di fatturato Si parla di una perdita di quasi il 95% Rispetto a ricavi che sono pari ad un miliardo E le associazioni di categoria chiedono l'immediato intervento della regione Per attivare i ristori Nel 2020 il settore wedding in Puglia ha subito cali del fatturato pari al 95% E ancora oggi è tutto fermo E il grido di dolore del presidente di Asso Eventi Confindustria Michele Boccardi Durante l'audizione in quarta commissione consigliare sulla crisi del comparto Si parla di ricavi in Puglia per un miliardo di euro l'anno Grazie ai circa 19.000 matrimoni l'anno Dei quali il 10% di stranieri Quest'anno andati in fumo Dalla riduzione delle imposte alla creazione di un vero e proprio distretto Sono alcune delle soluzioni individuate per risollevare il settore Duramente colpito dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria Un dramma che coinvolge migliaia di persone Dalle sale ricevimenti ai musicisti Ai wedding planner E ai lavoratori stagionali a tempo indeterminato Ridurre la Tari e l'Imu Con contributi regionali ai comuni E utilizzare il reddito di dignità Per aiutare i lavoratori del comparto rimasti senza lavoro E una delle proposte Presentate da Francesco Ventola Di Fratelli d'Italia Per risollevare il comparto Ha aggiunto Francesco Paolicelli Ci vogliono non più ristori ma incentivi Azioni concrete ha sottolineato la laricchia Che vadano oltre il colore politico Il problema principale per quello che riguarda i ristori È dato dalla diversità dei codici a teco Per questo si reputa necessaria La creazione di un distretto del wedding Rieccoci in studio con gli approfondimenti dalle varie province E andiamo subito a Foggia Dove seguiamo anche gli aggiornamenti relativi all'operazione Che si è svolta ieri Nuvole d'oro E che ha travolto Palazzo di Città È giunta la sospensione del consigliere comunale Bruno Longo Per mano del prefetto E poi ci sono anche le reazioni del sindaco Franco Landella Che è stato tirato in ballo In una intercettazione ambientale E seguiamo, vediamo anche quali sono le reazioni Del mondo della politica Sentiamo Sono totalmente estraneo ai fatti Si dichiara così il sindaco di Foggia Franco Landella Nell'ambito dell'inchiesta denominata Nuvola d'oro Condotta dalla procura della Repubblica di Foggia E dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari A seguito dei riferimenti rivolti alla sua persona In alcune intercettazioni oggetto dell'indagine In cui viene indicato come il quinto destinatario Della quota parte di una tangente È evidente dalle conclusioni della magistratura Che ogni riferimento alla mia persona È frutto solo di millanterie E mai di un mio diretto coinvolgimento Ha chiosato il primo cittadino Che attualmente non rientra tra gli indagati Un vero e proprio terremoto Quello che nelle ultime ore Sta scuotendo dunque le fondamenta Del palazzo di città del capologo Dauno A seguito dei risvolti dell'indagine Inoltre il prefetto di Foggia Raffaele Grassi Ha disposto alla sospensione di Bruno Longo Dalla carica di consigliere comunale Longo assieme ad altre tre persone È accusato di induzione in debita A dare o promettere utilità Secondo l'inchiesta di procure e finanza I quattro indagati avrebbero costretto Il legale rappresentante di una ditta di informatica Di Campobasso A farsi consegnare una tangente di 35.000 euro In tre tranche Quale compenso del pagamento delle fatture Emesse dalla sua stessa società Nei confronti del comune di Foggia Secondo il giudice per le indagini preliminari Del tribunale di Foggia I quattro destinatari della misura cautelare Ai domiciliari Oggetto di intercettazioni ambientali Progettavano di continuare Nella loro attività estorsiva Nei confronti dell'imprenditore molisano O di altra persona meno refrattaria Del primo a consegnare il denaro Il pericolo di reiterazione del reato Ha dunque portato il GIP A ordinare gli arresti domiciliari Una spiacevole vicenda giudiziaria Che gettano poche ombre e imbarazzi Sulle camere di regia Della maggioranza politica Dell'amministrazione comunale Dopo gli arresti Tutte le forze politiche Di centro-sinistra E il Movimento 5 Stelle Hanno chiesto le dimissioni Del sindaco leghista Landella E di tutta la sua maggioranza Secondo voi il governo Landella Può ancora andare avanti? Ci sono state diverse questioni Che hanno dimostrato Un'incapacità amministrativa In un momento invece In cui serve una forza politica Importante Una forza politica Che orienti E che dia anche fiducia ai cittadini Questa fiducia secondo me Ormai è venuta completamente a mancare Avete in mente qualche tipo di iniziativa? Verificare la possibilità Di fare una mozione di sfiducia Al sindaco e alla giunta E eventualmente Di andare anche a fare Delle dimissioni di massa Davanti al notaio Per far decadere questo consiglio L'amministrazione Landella Io credo che sia arrivata alla fine Ne esce male la città Ne sta pagando le conseguenze Di una mala amministrazione Da diversi mesi Riteniamo che si debba dar voce Ai cittadini E che si torni a votare E credo che il silenzio del sindaco Sia come una presa di coscienza Noi aspettiamo Un gesto da parte del sindaco Di dimissioni Altrimenti noi La settimana prossima Andremo dal notaio A firmare le dimissioni Io ho avuto Un confronto estremamente informale Molto breve Con il consigliere Longo Il quale immediatamente Mi ha comunicato La sua volontà Di autosospendersi Mi ha rappresentato La sua serenità Rispetto ai fatti E che avrà modo Di chiarire Alla magistratura La propria posizione Quali sono i provvedimenti Che potreste prendere Subito dopo L'eventuale convalida Del GIP Vediamo cosa succede Nell'ambito Del procedimento In cui è coinvolto Dopodiché comunque Il partito Rimetterà la posizione Al collegio dei probibili Secondo lei Come ne esce Il centrodestra Dalle ultime vicende C'è una spaccatura Ormai insanabile Queste situazioni Colpiscono la politica Nella propria credibilità Non è un discorso Di centrodestra O di centrosinistra È un discorso Proprio di credibilità Della politica I carabinieri Hanno messo a segno Un'operazione antidroga All'alba di oggi Hanno arrestato Nove persone Che avrebbero Spacciato Nella zona Di Peschici Nel Foggiano Il gatto rosso È un vecchio rudere Un tempo Noto ristorante Sul Gargano Di Peschici Oggi Divenuto punto di ritrovo Per una banda di spacciatori A scoprirlo In cinque mesi di indagini Partite nell'ottobre 2019 E conclusesi nel marzo 2020 Sono stati i carabinieri Che hanno arrestato Nove persone Eseguendo un provvedimento Restrittivo Firmato dal GIP Del Tribunale di Foggia Secondo quanto emerso Nel corso Dell'attività investigativa Gli spacciatori Nel periodo di lockdown Per eludere i controlli Prendevano abitualmente Mezzi pubblici Confondendosi così Con i pendolari Ascici Mariana Cocaina Le sostanze stupefacenti Spacciate A clienti di diverse fasce d'età Anche minorenni Nelle diverse fasi Delle indagini Gli investigatori Hanno eseguito Tanti sequestri 100 grammi di ascici 500 di mariana 260 di cocaina Le sostanze sequestrate Complessivamente Per un valore Di 35.000 euro Le perquisizioni Effettuate Durante il blitz Hanno consentito Inoltre Il rinvenimento A casa Di uno degli arrestati Di alcuni grammi Di droga Sette le persone Finite in carcere Mentre le altre due Ai domiciliari Ancora droga Un insospettabile Addetto alla pulizia Nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII Di Bari Arrestato Per possesso di droga Rinvenuti Dalla polizia 400 grammi Di cocaina Insospettabile Addetto alle pulizie Dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII Di Bari Arrestato Dalla polizia Dopo il ritrovamento Di un consistente Quantitativo Di cocaina Nei guai È finito un 32enne Che i poliziotti Della squadra mobile Avevano sotto controllo Già da un po' Gli investigatori Hanno fatto irruzione Nel suo appartamento Al quartiere Gli apigia E hanno scovato Grazie anche al fiuto Del cane antidroga 400 grammi Di polvere bianca I poliziotti Nel corso Dell'attività D'indagine Avevano appreso Che l'appartamento Era stato trasformato In un vero e proprio Laboratorio di taglio E confezionamento Della droga Al momento del blitz L'uomo avrebbe tentato Di disfarsi di un borsello Lanciandolo dal balcone Borsello però Che è stato subito Recuperato dagli altri agenti Che nel frattempo Avevano circondato La zona Impedendo così Ogni via di fuga All'interno C'erano 300 grammi Di cocaina Confezionata in buste Sotto vuoto In materiale Per la preparazione E il confezionamento Delle singole dosi Un bilancino di precisione Nastro gommato E bustine Gli accertamenti Poi sono stati eseguiti Nell'armadietto Che l'uomo in uso In ospedale E lì sono stati trovati Altri 100 grammi Della stessa sostanza Veniamo alla cronaca Giudiziaria La psichiatra Uccisa a Bari Paola Labriola Chiesta la condanna Per gli ex dirigenti E funzionari Della ASL Di Bari Sei condanne Appena comprese Tra i 4 anni E i 2 mesi E i 16 mesi Di reclusione Per gli ex dirigenti E funzionari ASL Bari Accusati di condotte Che avrebbero contribuito Alla morte Della psichiatra Paola Labriola E quanto chiesto Dalla procura di Bari Per sei imputati Nel processo Sulle presunte omissioni Delle misure di sicurezza Da parte dei dirigenti ASL La dottoressa Fu uccisa Nel settembre del 2013 Con 57 coltellate Da un paziente Nel centro di salute mentale Nel quartiere Libertà Nel quale lavorava Nella requisitoria finale Del processo E in corso Dinanzi al Tribunale di Bari Il PM Baldo Pisani Ha chiesto la condanna A 4 anni e 2 mesi Per l'ex direttore generale Della ASL Domenico Colasanto Accusato Dei reati di morte Come conseguenza di altro delitto Omissione di atti d'ufficio Induzione in debita A dare o promettere utilità La procura ha chiesto Ancora condanne A un anno e 8 mesi Di reclusione Per l'ex funzionario Alberto Gallo Per l'ex segretario Di Colasanto Antonio Ciocia E per un altro dipendente ASL Giorgio Saponaro Imputati in concorso Con l'ex dirigente Di induzione in debita Per aver pressato Con insistenza Gallo Nella predisposizione Dei falsi documenti Di valutazione dei rischi Per falso materiale In atto pubblico Altri due funzionari Baldassare Lucarelli E Pasquale Bianco Rischiano la condanna A un anno e 4 mesi Per l'omicidio È già stato condannato In via definitiva A 30 anni di reclusione Il 41enne Vincenzo Poliseno Che sta scontando La pena in carcere Parliamo di scuola Sindacati pugliesi Rompono con la regione Proclamano lo sciopero Braccia incrociate Per la prima ora di lezione In programma Lunedì 22 Una lettera inviata Anche al premier In caricato Sentiamo Antonio Bucci Uno sciopero di un'ora La prima di lezione Di lunedì 22 A proclamarlo I sindacati pugliesi Della scuola Per protestare Contro l'ultima ordinanza Del governatore Che lascia alle famiglie La libertà di scelta Sulla frequenza in presenza Lo strappo È arrivato Sin dalla firma Del capo della giunta Sul provvedimento Le sigle confederali E l'associazione nazionale Dei presidi Infatti Hanno disdetto immediatamente Il vertice Inizialmente convocato Con l'ente di via gentile Per discutere del provvedimento Lasciando però Tutte le questioni Sul tavolo Dalla contrarietà Alla formula mista Con lo spazio di manovra Concesso ai genitori Ai doppi turni D'ingresso e uscita Per gli istituti superiori Passando per l'operatività Dei team Di operatori sanitari Scolastici Sulle barricate Ci sono le sigle Di categoria Di CGL CISLE Poi SNALS CONF SAL GILDA E ANIEF Che hanno previsto Il coinvolgimento Di tutto il personale Docente ATA E area della dirigenza La novità in compenso Una lettera da inviare Nei prossimi giorni Al premier incaricato Mario Draghi Per un cambio di rotta Veniamo adesso Parliamo di uno studio Che è stato sviluppato Così a quattro mani Tra Policlinico Riuniti di Foggia E l'istituto Zooprofilattico Di Puglia E Basilicata Dove ci sono Delle importanti Scoperte Che riducono I tempi Di dimissibilità Dei pazienti Che si sono Diciamo Negativizzati Ma risultanti Ancora positivi Al tampone Molecolare Antonella Davola Tra il Policlinico Riuniti di Foggia E l'istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Puglia E della Basilicata E' attiva Una stretta collaborazione Per la procedura Diagnostica Di valutazione Della crescita Del virus SARS-CoV-2 Nei pazienti Ricoverati Presso i reparti Covid Dell'azienda Policlinico Riuniti Clinicamente Guariti Ma non negativizzati Al tampone Molecolare Lo studio clinico E' stato oggetto Di pubblicazione Sulla rivista Scientifica Internazionale Journal of Clinical Medicine Ma vediamo Quali sono le risultanze Dello studio Nel merito L'idea nasce Dal fatto Che già dalla prima ondata Ci siamo trovati Di fronte A pazienti Che pur Clinicamente Guariti Da sintomi Quindi non presentavano Più sintomi Legati Al Covid-19 Continuavano A risultare Positivi Anche dopo 20 30 40 giorni Abbiamo avuto Pazienti Anche oltre 40 giorni Quindi l'idea Nasce da qui Questa positività Effettivamente Legata Alla presenza Del virus Vivo e vitale Per cui abbiamo Inviato I tamponi Positivi Di questi pazienti All'istituto Zoprofilattico Che è un istituto Di biosicurezza Di terzo livello Proprio per andare A valutare E l'eventuale Crescita Del virus All'interno Della cellula I risultati Di questa valutazione Che riguardavano Circo 84 pazienti Hanno evidenziato Che non c'era In realtà Crescita Del virus Non veniva isolato Il virus Pur in presenza Di tampone positivo Probabilmente Correlato Al fatto Della presenza Di detriti Di tracce geniche Questo è stato Importante Perché di fatto Poi Rispetto ai criteri Di dimissibilità Cioè che il paziente Al ventunesimo giorno O positivo O negativo Che sia il tampone Può andare a casa Perché risulterebbe In realtà Non più infettivo Non più contagioso Questo studio È uno studio in vitro Nel senso che Noi abbiamo Lavorato con dei tamponi Che abbiamo seminato Su colture cellulari E sulle colture cellulari Non abbiamo avuto Crescita virale Quindi presenza Di virus vitale Questo è un dato Che rafforza Ancora di più Quanto espresso Dal ministero Della salute Secondo la cui circolare I pazienti Che almeno 21 giorni dopo Dal tampone Sono ancora Risultano ancora Positivi al tampone Comunque Possono essere dimessi Però c'è anche Un dato Preoccupante Perché in Puglia Sale L'incidenza Dei contagi Fra i bambini In età scolare E a dirlo È lo studio Dell'Associazione Italiana Di Epidemiologia Su 11 regioni È relativo A fine gennaio C'è un trend Al rialzo Sui contagi Di bambini In età scolare Ed è quello Che avvicina La Puglia All'Umbria Che però Fa i conti Con le varianti Inglese e Barsiliana Dei covid-19 Il monitoraggio Dell'Associazione Italiana Di Epidemiologia Su 11 regioni Traccia un quadro Per classi d'età Dei casi di positività E con particolare attenzione All'Italia centrale Area nella quale più Si sono osservati I ceppi mutati Del virus Nell'ultima settimana Di gennaio Infatti In discesa La curva Su tutte le fasce D'età Ma non tra i giovanissimi Nello specifico Si registra Una riduzione Dell'incidenza Nella cosiddetta Età attiva Ovvero tra i 19 E i 64 anni E questo già a partire Dalla metà Del primo mese Dell'anno Mentre le classi D'età scolari E si includono Anche i bambini Tra gli 0 E i 5 anni Mostrano un lieve incremento Nell'ultima parte Del mese In Emilia Romagna Ad esempio La risalita È limitato agli under 5 Diventa più importante Se si prendono in esame Marche, Umbria, Toscana e Lazio Per la fascia Che va dai 6 ai 10 anni Ma anche Campania Con la ripartenza Delle scuole primarie e medie E Puglia appunto Dove il virus Continua a correre Tra i più piccoli E nella fascia d'età Che va dai 6 Fino ai 13 anni Senza trascurare Quella prescolare Variabile non da poco Se si conta La libertà di scelta Assegnata alle famiglie Sul doppio canale Di fruizione Della didattica Tra presenza e distanza Contestata da sindacati Ed evidenti scolastici Al Policlinico di Bari Sono iniziate Proprio questa mattina Le vaccinazioni Per gli studenti Di medicina E quelli di professioni sanitaria Ricevere le dosi Per primi Sono stati 300 tirocinanti Di infermieristica Che subito dopo Si sono messi al lavoro Per somministrarle Ai colleghi Il programma vaccinale Approvato dal Policlinico di Bari Prevede che siano vaccinati Tutti i ragazzi Iscritti al corso di laurea Di professioni sanitari E quelli di medicina E chirurgia Che frequentano l'ospedale Con priorità Per chi svolge Anche il tirocinio In corsia Si proseguirà Poi Nei prossimi giorni Con gli studenti In procinto di laurearsi Con i fuoricorso E con gli iscritti Dal sesto anno Di medicina In giù Andiamo ad Andrea Eccanosa Si rinnova L'appuntamento Con cardiologie aperte L'iniziativa Di prevenzione Che è rivolta A tutti i cittadini Con patologie Cardiovascolari Attraverso Un numero verde Ce ne parla Francesco Zagaria Torna nella BAT Cardiologia aperte Tappa Ad Andrea Eccanosa Di Puglia Per fare prevenzione Contro le patologie Cardiovascolari Sarà possibile Ricevere consulenza Chiamando il numero verde 800 05 22 33 L'iniziativa È promossa Dalla fondazione Per il tuo cuore A rispondere Saranno Le unità Operative Di cardiologia E di riabilitazione Cardiologica Dei due ospedali La prima Diretta dal Dottor Michele Cannone Per Andrea La seconda Dal dottor Giuseppe Di Aferia Per Canosa L'appuntamento Fondamentalmente È sempre quello Di sottolineare Evidenziare E parlare Di prevenzione Cardiovascolare Di prevenzione Se ne dovrebbe fare Tanta Se ne fa Purtroppo Ancora poca E la prevenzione In realtà Dovrebbe essere La prima Base Della Della Medicina Nel senso Che noi Dovremmo andare Dai medici Per non ammalarci Non per curarci E quindi Per sentire I loro consigli E cercare Di adottare Uno stile di vita Il più corretto possibile Quest'anno La campagna Prevede La possibilità Di interloquire Con un cardiologo In orari Prefissati In cui Un cittadino Vuol porre Delle domande Delle curiosità Dei quesiti Ma fondamentalmente Volti sempre Alla prevenzione Delle malattie Più che al consulto Su una malattia Che uno già ha E che magari È già seguito Da un altro specialista E quindi Saremo pronti Nelle ore prefissate A rispondere Alle vostre domande Ai vostri quesiti Per venirvi incontro Ma fondamentalmente Per motivarvi Ad avere uno stile Di vita migliore Che per le malattie Cardiovascolari È veramente In tocca sana Chiudiamo il capitolo Sanità E parliamo di altro Parliamo di ACUPI Che ha presentato ACUPI Facile 2.0 La nuova app Dell'ente di Via Cognetti Che consente Di accedere Ad una serie Di servizi Come l'autolettura E la fattura Online Antonella Fazio Si chiama ACUPI Facile 2.0 La nuova app Di Acquedotto Pugliese Un modo ancora più facile Comodo E veloce Per fruire online Di tutti i servizi Dedicati ai clienti Oltre alle funzioni Di autolettura Simulazione fornitura E consumi Fattura online E prelottazione Appuntamenti È possibile Da oggi anche Effettuare L'estratto conto Con l'evidenza Delle attività Di recupero crediti E i pagamenti Anche delle singole rate Attraverso i canali Pagopà E carta di credito Uno strumento innovativo E integrato A servizio del cliente Disponibile anche In lingua inglese Il tutto Standosene comodamente A casa propria Senza dover andare Agli sportelli commerciali Ed evitando I luoghi affollati Con un semplice click Sul cellulare Utilizzando l'app Sarà possibile Accedere Ai nostri Servizi Di contrattualistica Quindi Richiedere Volture Notizie sulle bollette Stipulare Contratti Interagire Con Acquedotto Così come Già si faceva Con Acquipi Facile Dal proprio Computer Questa Pandemia Questa Problematica Sanitaria Che ha Volto il nostro Paese Ha soltanto Sfiorato Acquedotto Pugliese Perché Già dai primi Momenti È stato Consentito La gran parte Oltre il 50% Dei collaboratori Un lavoro Da remoto Un lavoro Da casa Un lavoro Che però Ha fatto Proseguire L'attività Di Acquedotto Pugliese Senza soluzioni Di continuità Abbiamo infatti Lanciato Nei giorni scorsi Abbiamo già Anche un 50% Del personale Che l'ha Adottata La cupi smart Cioè una App Che Praticamente Faciliterà L'interazione Tra tutti i colleghi Avrà È un social Di fatto Dove Condividere informazioni Sia di lavoro Che di tempo libero Adesso andiamo Ad Andria Dove Troviamo Un Biscotto È stato prodotto Un biscotto A forma Di Castel Del Monte Per un sapore Che è un intreccio Fra tradizione E territorio Sentiamo Un biscotto A forma Di Castel Del Monte L'idea originale Dello chef Andriese Giuseppe Cialdella Giovanissimo 32 anni Che con la sua Bella famiglia Gestisce Un noto Ristorante Ai piedi Del maniero Federiciano Patrimonio Dell'UNESCO Un'idea Nata per gioco Nel tempo libero Dettato Dalla chiusura Forzata Per covid Ed è così Che Giuseppe Si è messo Al lavoro Semola Burro Mandorle Zucchero Uova Latte Arancio E camomilla Per un biscotto Dal sapore Inconfondibile Che unisce Tradizione E territorio L'idea Nasce Dalla valorizzazione Del nostro territorio Ovviamente Avendo Il Castel Del Monte Visibile Dalla nostra struttura Lo abbiamo Voluto rendere Dolce Creando appunto Il nostro Castellotto Utilizzando Esclusivamente I prodotti Del territorio E avendo Delle collaborazioni Con le aziende Circostanti Per far sì Che la rete Ci possa portare Più avanti E la Puglia Abbia il successo Che merita Quattro Tempo Sono diventate Un'idea Regalo Molto Ricercata Sul web Per la prossima Festa Degli Innamorati Cofanetti Regalo Che ciascun Innamorato Potrà donare Alla propria Dolce Metà Con all'interno Una delle opere Illustrate A cura Dell'artista Insieme al libro Di Grignare Fa male alla Mascella Di Ana Maria Fazienza Quattro I diversi soggetti Tra cui Scegliere Dall'abbraccio Dei due amanti Su una barchetta A Ocean Beat Che raffigura Un cuore Ripieno Di mare Per citarne Alcune Disegno E colori Si fondono Senza rumore In queste Illustrazioni Dall'impatto Fortemente Emotivo In cui figure Femminili Dalle forme Morbide Emergono Placide Dalle diverse Sfumature Di blu E adesso Veniamo al carnevale In tempi di pandemia In cui anche Questa Diciamo Questa festa E Sottoposta Alle normative Anticovid La community Di Puglia Di Puglia Promozione Mette online I racconti Della tradizione Pugliese E lezioni Di cartapesta Io sono Dino Parrotta E sono un attore Teatrale Oltre che Regista E drammaturgo Sono un appassionato Di commedie Dell'arte E in questo Si avvicina La mia passione Per la maschera Del carnevale Di Farinella Un carnevale anomalo Quello che si festeggerà Quest'anno Per via delle restrizioni Anticovid E così Niente feste Assembramenti Niente sfilate E veglioni Ma in alcune città Della Puglia Si festeggerà online Ciò non toglie Però che non si possa Andare in giro Per la nostra regione Alla scoperta Di persone E luoghi Che rappresentano La Puglia E il suo carnevale Puglia Promozione Lo fa con le sue Storie di Puglia Che sui social Instagram Facebook Twitter E YouTube Raccontano Raccontano La regione Fra artigiani E luoghi Tradizioni E novità E così Non poteva mancare Un incontro Con alcuni personaggi Del carnevale A partire da quello Di Putignano Il più antico D'Europa E che rappresenta Non solo La ridente città Del sud est Varese Ma tutta la Puglia Grazie anche All'impegno Della fondazione Carnevale di Putignano Ed ecco due video Su Facebook Uno sulla mascherina Di Farinella Ed uno sulla figura Di un produttore Di coriandoli Di Putignano Che sarà pubblicata Martedì prossimo E che è appunto Martedì grasso Ma non solo E' possibile anche Seguire una lezione Di carta pesta In diretta a Facebook Tenuta dall'artista E artigiana Luigia Bressan Che ci insegnerà A fare a casa La nostra maschera Di Farinella E' carnevale Nonostante la pandemia Ma questo non ci toglie L'allegria Andrà sempre Tutto bene Sì per fiducia E perché a Putignano E il coriandoli Scorrono nelle vene Ciao ciao Arrivederci a Putignano A chi è vicino E a chi è lontano Veniamo al meteo E copritevi meglio Questo fine settimana Perché in arrivo Tra meno di 24 ore In Italia Il vento gelido Proveniente dagli Urali Si chiama Il Burian Portando neve E gelo In concomitanza Con il suo ingresso Giungerà anche Una perturbazione Atlantica Che scenderà Verso le nostre regioni Verso il centro sud Dove l'aria gelida Darà vita Anche ad un vortice Ciclonico Che porterà Anche Neve In Alle basse Diciamo In pianura Quindi sabato Il Burian Spazzerà L'Italia del nord e sud Provocando Un tracollo Delle temperature Fino a 15 gradi Questa era L'ultima notizia Vi auguro Una serena giornata L'ultima notizia L'ultima notizia